Buongiorno a tutti, sarà forse un video un po' più lungo questo e lo dedico ad una persona che chiamo Anna, che mi scrive che sono una ragazza di 25 anni che si trova in una fase di stasi della sua vita. Dobbiamo imparare una cosa importante, non definire i periodi della tua vita. Cosa vuol dire stasi? Che non ti vengono progetti, che non hai idee giuste, che non accadono cose? Ma vi siete mai immaginati il mare sempre calmo? Un mare sempre calmo sarebbe una palude, putrido, così un mare sempre in tempesta ci porterebbe a naufragare. Stasi vuol dire che qualcosa dentro di te coglie che c'è un mare calmo, perché lo vuoi in movimento? E se il mare calmo fosse come il liquido amniotico, sta preparando un'altra tappa della tua vita? Per star bene con se stessi bisogna imparare la cosa più importante, ad annullare il tempo. Il tempo c'è per quando ci diamo un appuntamento, ma il tempo non c'è per le leggi dell'anima. Sapere aspettare qualcosa che non sappiamo cos'è è la prima legge e non definirle la seconda. Sono in un periodo in cui mi accorgo che non succede niente, ma non sta succedendo veramente niente o non sta succedendo niente di quello che tu ti aspetti. Molte volte le cose non capitano perché noi ci aspettiamo delle cose mentre la nostra anima ne vuole altre. Allora chiamiamo stasi il fatto che non accadono le cose che noi vorremmo, ma che forse non sono pertinenti o adatte a noi. Anna mi dice prima di tutto voglio comunicarle la mia stima e ringraziarla per i preziosi consigli presenti nei suoi meravigliosi libri nelle pagine di Rizia, grazie ai quali da circa un anno ho potuto finalmente assaporare ciò che mi ha riservato la vita. Ecco, mi soffermo su queste parole non per farmi complimenti, che non amo peraltro, ma perché attribuire sempre a qualcun altro, magari hai letto il mio libro e hai trovato qualcosa di interessante, ma perché attribuire sempre a un altro nel caso a me il cambiamento, il miglioramento, la realizzazione della tua vita? Un libro spesso è un'occasione, sono delle pagine che fanno da richiamo, da mantra, da suono per ricordare a te le cose che sai, magari ti sei dimenticato, quindi nell'autore che leggi non c'è nessun merito, il merito è quello tuo di aver aperto delle porte e quell'autore è stato un interruttore che ti ha aiutato a aprire le porte. Eppure da quando ho conseguito la laurea in lettere, poche mesi fa mi sento inquieta, come un barinaio che non sa quale rotta seguire. E questo è interessante, se uno dovesse dirmi dopo tanti anni che faccio questo lavoro dove sono arrivato io, io sono molto inquieto, sono una persona molto inquieta, credetemi, e essendo una persona molto inquieta, quando arriva l'inquietudine, so che in quel momento si stanno aprendo delle rotte, dei percorsi, allora io accolgo completamente l'inquietudine, dico l'inquietudine fai di me quello che vuoi, portami nel mare dove vuoi tu, la differenza sostanziale non tratto l'inquietudine come uno stato inferiore, ma l'inquietudine come uno stato energetico dell'acqua che mi porta forse verso rotte che mi sono ancora del tutto sconosciute, il mare sa dove portarmi, io no. Comunque confesso caro Vorelli di non avere rimpianti, di essere felice di aver vissuto fino ad ora tutte le esperienze senza pensare alle conseguenze. Ecco, questo commento è meglio non metterlo. Io non so chi sono, è la parola giusta, non so dove vado, quindi il fatto che abbia vissuto bene, male, che non ho rimpianti, in realtà ci sta dicendo che io mi definisco come una persona istintiva e quindi mi accetto così, ma non c'è da accettarsi, c'è da guardare cosa capita dentro di noi di volta in volta. In effetti la scelta del percorso universitario è stata dettata dalla passione per la letteratura e da una profonda curiosità per nulla dalle possibilità di impiego di successo, ma scherziamo, noi dobbiamo scegliere in base a ciò che ci appassiona. Non ho mai visto uno appassionato di qualcosa che non abbia trovato lavoro, mai. Ho visto gente che ha scelto lavori differenti essere poi infelice e scontenta. Comunque se fate anche un lavoro che non vi piace dovete trovare degli hobby, delle passioni che vi prendano, altrimenti diventa una vita chiusa nel mondo razionale, causale. Ciò nonostante, mi scrive sempre Anna, vi sto chiedendo se sei stato davvero saggio agire distinto, niente domande. L'anima si stanca delle nostre domande, l'anima non ha bisogno dei tuoi pareri, delle tue domande. Ho fatto bene, ho fatto male, non dovevo agire distinto, quando diciamo non dovevo agire distinto in realtà ci stiamo dicendo voglio essere come tutti gli altri e l'anima, il tuo mondo interno, la tua identità profonda si perde perché per la tua identità profonda vuole essere come sei, non come tutti gli altri. Quindi non ascoltate le parole degli altri e non date definizioni di voi. Mi sento inutile perché non posso aiutare economicamente la mia famiglia e temo di non trovare il mio posto nel mondo. Ognuno di noi lo ha già il suo posto nel mondo, se la smette di dirsi che lo deve cercare. La famiglia ci aiuta fino a quando siamo autonomi e se noi non siamo in grado di aiutarla è forse perché l'anima sta cercando una sua strada. Dobbiamo smetterla di essere dei bonisti, il bonismo fa malissimo all'anima e al cervello. Parallelamente inizio ad avvertire l'invio dei curriculum come un'attività meccanica frustrante, in più il fatto di non scorgere nulla al di là della quotidianità mi spaventa, facendomi sentire diversa. Come se non bastasse credo di trovarmi in uno stato di completa contraddizione, durante i giorni talvolta mi raggiungono inquietudine e paura, mentre di notte da vari mesi sogno molta acqua, acqua fresca, limpida che mi circonda e che mi sfiora, procurandomi benessere e facendomi sentire sicura. Sembrerebbe dunque che il mio lato più inconscio stia bene, perché allora questa indecisione di sicurezza? Perché lo stiamo disturbando, perché continuiamo a riempirci di domande. La nostra sognatrice, Anna, fateci caso, nella lettera che mi scrive usa spesso la parola acqua, navigare e il sogno le porta all'acqua limpida. Che senso ha quando sogniamo l'acqua? L'acqua ci ricorda il femminile, il nostro lato antico, la nostra autocreazione, il sogno sta dicendo, guarda, che tutta quest'acqua ti sta creando. Quindi affidiamoci all'acqua, smettiamole dirci come dovrà essere la nostra vita, dove dovremo andare. Non ci sogneremo mai di dire a un bambino al sesto mese di gravidanza perché non parli, così non dobbiamo sognarci di trovare lavoro in cinque minuti. Possiamo fare dei lavori collaterali, magari per guadagnare un po' di soldi, ma la mia passione è il mio lavoro e quindi devo seguire la mia passione. Senza, come dice il pensiero Zen, senza titubanze. La titubanza stanca l'anima, la titubanza ci rende inquieti. La titubanza è sempre una lotta fra l'essere te stesso, il tuo nucleo o l'essere come tutti gli altri. La vera lotta che noi abbiamo nella vita è una sola. Essere come tutti gli altri, come i miei amici, come le mie amiche. o essere la mia pianta. Il 99% delle persone sta male perché vuole essere come tutti gli altri. Lo star male, se lo accettasse, lo aiuterebbe a trovare invece il suo percorso. Da tempo probabilmente mi trascorre un periodo di tempo all'estero da sola per migliorare l'inglese e lingua che adoro. Come posso sapere se è davvero ciò che vuole la mia anima? L'anima non prende decisioni certe, definitive. L'anima fa tentativi ed errori, fa prove. Adesso sento il desiderio della passione per l'inglese e bene la seguo. Anche se mi accorgo dopo un mese che non era ciò che io volevo, ciò che mi piaceva, tuttavia quella prova, a quel tentativo preparerà altre strade come un animale che nella foresta va in cammino per raggiungere la sua destinazione. Fa un percorso, lo corregge. Il processo è la destinazione. In questo momento, caran, l'inglese ti chiama. Niente domande, l'anima detesta le domande. Nel desiderio dell'inglese l'anima sta mettendo un altro mattone nel tuo percorso. In qualche modo sento che questo mio primo viaggio in solitudine verso l'ignoto mi possa regalare emozioni straordinarie. Ma qualcosa mi blocca. Sì, sai cosa ti blocca? Il fatto che tu pensi, che tu dovrai provare emozioni straordinarie. Quando l'anima ci manda il desiderio dell'inglese, ci manda il desiderio dell'inglese. Sta preparando una tappa del nostro percorso amniotico. Non vuole farci passare un mese straordinario, incontrare l'amore della nostra vita, i sogni dei sogni. Se andiamo lì con l'idea di incontrare il mito, il mito non lo incontreremo mai. La magia è qui, a portata di mano. Vorrei solo dei segnali della vita per capire di essere nella direzione giusta. La vita dà segnali se non pensiamo, se non ragioniamo. Chi chiama l'ape a 10 km di distanza se non il polline? Il polline non pensa. Tanti auguri a 10 km di distanza se non pensiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.